Dopo due anni di pandemia, noi l'ultima volta che abbiamo acceso un falò qua in piazza è stato giusto due anni fa, prima e dopo pochi giorni abbiamo avuto lo scopo della pandemia e l'anno scorso non è stato possibile. Oggi davvero abbiamo voluto rifarlo anche se soltanto in piazza per ragioni di sicurezza e quindi ne facciamo uno soltanto in uno spazio così ampio per evitare poi il discorso di assembramenti per ragioni di sicurezza. Ma abbiamo voluto fortemente che si riprendesse la nostra tradizione secolare di Adripalda e abbiamo anche il piacere di avere il vescovo che è stato con noi a celebrare, che ha celebrato la messa di San Zabbino in chiesa, in Sant'Ippolissa. Adesso verrà con noi ad accendere il fuoco, è un segno di ripartenza per la città di Adripalda ma per tutti, per tutta l'Irpina e quindi speriamo che sia un segno anche di speranza per il futuro, che sia la fine, segni un po' la fine di questo periodo molto difficile. Sono due anni che la nostra vita in molti aspetti è cambiata, lo sappiamo tutti, abbiamo avuto anche vittime, abbiamo avuto difficoltà, abbiamo avuto sofferenze, però dobbiamo ripartire e questo è un modo per ripartire, ritrovarci nelle tradizioni della nostra comunità, ritrovarci tutti insieme, ci aiuta anche a ritrovare entusiasmo per ripartire perché indubbiamente dobbiamo guardare avanti e non possiamo più fermarci in queste difficoltà, dobbiamo trovare il modo di superarlo, abbiamo lavorato in questi due anni, sono persone che hanno lavorato più degli altri, i medici, gli infermieri, la protezione civile, le forze dell'ordine, hanno lavorato più degli altri in questi due anni, però adesso dobbiamo riprendere un po' entusiasmo tutti e provare a riprendere la nostra vita, i nostri progetti, questo è un simbolo importante. Ma illuminiamo innanzitutto la città di Atripalda che deve ritrovarsi come senso di comunità e illumina il futuro, illumina gli anni che verranno, illumina la vita che verrà e che dobbiamo cercare di, ripeto, di ripercorrere nuovamente con nuovo entusiasmo, ma tenendo ferme le radici in quella che è la tradizione della nostra comunità. Quindi ovviamente invochiamo l'aiuto di San Zabbino per questo, come è sempre stato storicamente per la nostra città, che ci guarda e ci illumina il percorso che dovremo affrontare. Riprendere tradizioni è un segnale che la ripresa è vicina anche alla normalizzazione. E poi riprendere anche abitudini, tradizioni dei nostri padri fa sempre bene. Qual è il messaggio che possiamo lanciare alle comunità ancora in difficoltà, le prese con la crisi sociale? Rispetto al fuoco cerchiamo di riscaldarci anche riannodando i vincoli della comunità a qualsiasi livello. C'è bisogno di maggiore solidarietà, signora? Anche, certo, certo. Dobbiamo accorgerci di quelli che hanno più bisogno e che escono particolarmente penalizzati da questi due anni che abbiamo vissuto. Stasera abbiamo ammirato le parole, abbiamo sentito le parole del Papa da Fazio in TV, ha parlato di una maggiore solidarietà e di toccare con mano la povertà. Purtroppo lei lo sa, c'è stato un sensatetto che è morto ad Avellino, al centro della città, si poteva fare di più, bisogna cercare comunque di stare più uniti. Bisogna sempre fare di più e fare meglio e che nessuno venga penalizzato, in nessun bisogno, in nessun aspetto di povertà. Quindi questo lo chiediamo anche per intercessione di San Sabino.